E' un impegno per quello che si può fare finora, diciamo, siamo a tutti. Dunque, intanto, a livello diocesano abbiamo dato la disponibilità di una locale che abbiamo a Sinalunga, piccolino, può ospitare cinque profughi, però è un modo con cui noi vogliamo lanciare questo messaggio, che i problemi del territorio ci riguardano tutti e nessuno si può tirare indietro. Quindi vogliamo essere presenti in questa emergenza come chiesa, che è un fenomeno del nostro tempo. Più c'è i locali, tutti interi, della parrocchia di Querce Alpino, che sono gestiti dalla parrocchia di Chiusi Scalo, e che ospita, attualmente mi pare siano 15, ma cambiano continuamente perché sono più che altro ospitalità di passaggio. L'integrazione è un problema che ci interessa a tutti, cioè è un interesse di tutti. Lavorare per l'integrazione di cittadini stranieri non è un favore che facciamo ai cittadini stranieri che vengono da noi, è un favore che facciamo a noi stessi. Primo perché meno diamo adito a sorgere di realtà di emarginazione, meglio è per tutti, perché nell'emarginazione cresce la delinquenza, cresce il disagio. Poi perché un cittadino straniero ben integrato diventa una risorsa. Ma quello che è importante è che quando si parla di integrazione non si pensa all'istituzione. L'integrazione è un processo culturale che riguarda i cittadini, quindi riguarda tutti noi. E tutti noi abbiamo questo compito di realizzare l'integrazione. In che modo? Superando le difficoltà, i disagi, il modo in cui guardi questa gente per strada, il modo in cui gli vai loro incontro oppure li eviti, oppure li giudichi come dire ma ci sono problemi noi di lavoro e di casa e questi vengono e hanno i sussidi dello Stato e hanno dove dormire, eccetera. Il superamento di questi, li posso chiamare pregiudizi, ci libera da timori, da disagi e possiamo guardarli in faccia in un modo più sereno e più tranquillo. Ora abbiamo cinque immigrati del Gambia, in Sinalunga. Prima di questi ci sono stati cinque immigrati dall'Eritrea. Nessuno parla del Presidente del Gambia e del Presidente dell'Eritrea che sono due, scusate i termini, due psicopatici, veri e propri, pazzi che si permettono di fare qualunque sopruso alla popolazione. Il mondo, si sa, è diventato un condominio. Sempre più sarà così. Siamo tutti connessi col mondo continuamente per cui dovremo trovare un modo di vivere tutti insieme. Quindi se quello di sotto tiene la radio accesa, lo stereo alto dovremo imparare a abbassarlo. Dovremo imparare a condividere anche i nostri problemi sempre più perché siamo gomiti a gomito sempre di più. Quindi rifiutarsi di fare questo è rimanere indiesi alla storia alla fine. Invece prima ci si rinnova mentalmente, interiormente a questo nuovo tipo di vita, meglio è per tutti.